Musica Michele Arlanda ha vinto la quindicesima tappa del 98esimo Giro d'Italia da Marostica a Madonna di Campiglio. Il 25enne spagnolo ha trionfato nell'impegnativo arrivo in salita davanti al russo Yuri Trofimov della Katyusha, terzo la maglia rosa Alberto Contador della Team of Saxo a 5 secondi, quarto Fabio Haru a 6 secondi per il team Astana. Per Landa, professionista dal 2010, si tratta del secondo centro stagionale, il quarto da quando è professionista. In classifica il vantaggio dello spagnolo sul sardo aumenta di 7 secondi. Due secondi guadagnati alla traguardo volante di Pinzolo e al traguardo finale un secondo di distacco più i 4 secondi di abbuono. Ritardo adesso di due primi e 35 secondi. Ritardo adesso di due primi e 35 secondi. Grazie a tutti